amici del lago big fish ma soprattutto amiche del lago big fish 3 prima trotta gialla della giornata in diretta presa dall'amico grande francesco guardate trotta gialla lei vince degli spoon due spoon offerti dal paradiso del pescatore di san lazaro adesso vi faccio anche vedere può lasciare la trotta liberi pure guardi che spoon spaventosi che le do allora guardiamo lei vince questi due bellissimi spoon della nomura fantastico con cosa l'ha preso la trotta gialla con uno spoon colore colore giallo rosso nero giallo rosso nero perfetto benissimo ragazzi qui la situazione procede continua arrivando della gente noi aspettiamo siamo qua tutt'oggi con delle robe spaventose le trotte mangiano a bestia e le gialle iniziano a mangiare pallone a lei cosa ne pensa e proviamo un colore anch'io nero e giallo bravo lei copy copy